La città di Torino, con la sua crescita iniziata solo nel 1500, è oggi la più giovane tra le grandi metropoli europee. Gli ampi corsi perpendicolari per cui è famosa le hanno fornito per molto tempo una comoda e scorrevole viabilità. Paradossalmente negli ultimi anni questo si è tradotto in uno svantaggio, perché Torino è stata l'ultima grande città ad avere una metropolitana, mentre continua a non essere circondata completamente da una tangenziale. Con la presente proposta, lo svantaggio potrebbe nuovamente tramutarsi in vantaggio. Le metropolitane sono state inventate tra 800 e 900, quando il traffico a motore privato non esisteva, e la cosa più ovvia è stata farvi passare un treno. Ma ciò che le rende veloci non è la rotaia, bensì la galleria, che permette ai veicoli di viaggiare con la strada libera e senza incroci. A titolo di curiosità si possono citare le gallerie canale e i ponti canale, inventati per far incrociare corsi d'acqua di altezze differenti. I primi sono stati costruiti in Francia lungo il canale du Midi a partire dal 1676. Al giorno d'oggi, con l'enorme incremento del traffico per ragioni lavorative, costruire un tunnel sotto una città per far passare solo dei treni è diventato uno spreco inaccettabile. Nelle ore di punta i treni viaggiano in separazione minima, ma nelle ore morte o di notte la galleria è quasi vuota, o vuota. Oggi a Torino si sta discutendo il percorso della seconda linea della metropolitana, e si sta anche discutendo il percorso della tangenziale est di cui oggi la città è ancora priva. La proposta non convenzionale consiste per prima cosa nel costruire un tunnel sotto la città, dall'uscita della tangenziale a Moncaglieri verso Torino Corso Unità d'Italia, fino all'uscita dell'autostrada Torino-Milano in corso Giulio Cesare, o, alternativamente, all'uscita in corso Grosseto della Bretella per Caselle. A distanza in linea d'aria, nel primo caso 12,8 km, nel secondo caso 10,8 km. Sembrano tanti, ma occorre considerare i vantaggi. Il tunnel sostituirebbe la tangenziale est, con un percorso nettamente più breve e senza problemi di espropri e litigi con i sindaci. Inoltre, per accedere alla città da una tangenziale più esterna, causa la barriera naturale della collina, occorrerebbe comunque costruire dei tunnel per attraversarla, magari a costo minore, ma sempre alto, mentre un simile e antiquato modo di vedere la viabilità aumenterebbe ancora l'accesso veicolare alla città, che andrebbe invece diminuito. Pertanto, il secondo punto della proposta è collegare il tunnel ai posteggi sotterranei esistenti e ad altri da costruire in posizioni strategiche, senza permettere lo sbocco dei veicoli in superficie, ma solo di accedere al tunnel della superficie, per uscire dalla città. Naturalmente, dove passano auto, passano anche degli autobus, per cui il terzo punto della proposta è costruire per loro delle fermate sotterranee, più fitte dei posteggi, con scale ascensori verso la superficie. Torino sarebbe la prima città del mondo ad avere una metropolitana automobilistica. In attesa dell'invenzione del teletrasporto si possono capitalizzare alcuni vantaggi. Quali? 1. Costruire in un sol colpo, con un unico scavo, la tangenziale est e una linea della metropolitana. 2. Sfruttare al massimo la banda passante del tunnel, saturandolo meglio. 3. Agevolare la mobilità delle persone in Torino, senza soffocare ulteriormente il sistema viario di superficie. 4. Facilitare l'interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico. 5. Facilitare l'uscita dalla città rispetto all'entrata. 6. Associare al pedaggio per entrare in città, che sembra ormai inevitabile, un servizio reale e di valore in termini di risparmio di tempo. 7. Unire in uno solo i due budget finanziari di metropolitana e tangenziale, che separati sono ognuno per conto suo insufficienti. 8. Convogliare i gas di scarico di tutti i veicoli in transito in un sistema di ventilazione, con la possibilità di filtrarli e catalizzarli ulteriormente, scaricando la CO2 prodotta in zone ricche di vegetali che l'assorbono. 9. Possibilità di classificare ecologicamente i veicoli non solo in base alla catalizzazione, ma in base ai consumi, emissione di CO2, e in base all'ingombro, con tariffe dei posteggi sotterranei legate alle dimensioni. Si potrebbero abiettare problemi burocratici sul fatto di unire i budget, ma trattandosi di leggi, quando vi sia la volontà politica, basta una votazione del Parlamento a risolverli. Si può concludere ricordando che la quasi totalità del grande traffico avviene per lavoro, che la gramma vita dei pendolari è un'autentica causa di declino economico, per le ore di potenziale lavoro perse e ancor più per la disaffezione dei lavoratori verso il sistema, visto come crescentemente ostile e privo di futuro. Ogni investimento in materia avrebbe un ritorno fortissimo. Torino potrebbe ancora una volta proporre al mondo la sua capacità di esplorare vie mai percorse prima. È illuminante l'incitamento usato di BM nella sua comunicazione aziendale. Solo il passato può essere copiato, il futuro deve essere inventato.